Hanno riversato rifiuti sulla scalinata di accesso a Palazzo di Città per lanciare un segnale chiaro. La SM non può funzionare se la sua gestione non è affidata agli enti pubblici. I sindacati CGL, CISL, Will e FIADEL hanno inteso così protestare contro l'articolo 15 del decreto legislativo 135 del 2009 che prevede la privatizzazione degli enti pubblici. A spiegare i motivi della protesta è il rappresentante sindacale Paolo Montebello. L'immondizia sulle scale del comune che cosa significa? Una protesta perché? Una protesta perché non vogliamo la privatizzazione della nostra azienda, anche perché è un sacrificio dei nostri genitori, un sacrificio di tutta la città molfettese. In questo momento com'è la situazione dell'asma? La situazione dell'asma al momento è un po' critica, anche perché tagliandoci con un bilancio in perda di 500 mila euro abbiamo di 100 persone che stanno lavorando a 4 giorni con 2 giorni di supplemento, quindi anche noi in questo periodo ci troviamo anche, mi stanno dicendo che stanno pure senza contratto. Sono 5 mesi. 5 mesi senza contratto. Insomma, un'azienda che se da una parte ha rilanciato comunque il servizio di pulizia in città, dall'altra vede gli operatori che soffrono di questa situazione? Sì, si vede, come dici tu, c'è stato un rilancio con nuovi casonetti, casonetti interrati, con una nuova evoluzione, però abbiamo personale che da 6 anni, 7 anni sta lavorando con 4 giorni a part time. Dal canto suo l'azienda ha assicurato il diritto di sciopero dei lavoratori, pur non condividendo la forma della protesta, come ha spiegato il presidente Pasquale Mancini. Ma certo, lo sciopero è un diritto dei cittadini, dei lavoratori che rispettiamo, anzi, quando possiamo diamo anche un sostegno. Ma questo è un eccesso, penso che sia stata la UIL, se non mi sbaglio, e non altre sigle, ma imbrattare in questo modo la sede della Casa Comunale, una chiesa, strappare manifesti dal 4 di novembre, manifesti di privati, manifesti di defunti, mi sembra effettivamente un eccesso. A questi eccessi si risponde con l'impegno, come sempre, quindi prenderemo la ramazza in mano e puliremo la città con l'aiuto dell'amministrazione, di qualche amico che abbiamo in amministrazione. E' un eccesso, una cosa di pessimo gusto, che spero per loro che non rasenti qualche reato, ma secondo me c'è pure qualche reato, perché imbrattare volontariamente, così, la Casa Comunale, è un eccesso che non si fa. Detto e fatto. Ecco quindi il Presidente dell'ASM, Direttore dell'Azienda, Assessori e Consiglieri Comunali, darsi da fare per ripristinare il decoro di Palazzo di Città.